ciao a tutti e bentornati ancora una volta su indie gameplay ita oggi siamo su microsoft flight simulator 2020 l'ho pronunciato malissimo lo so flight simulator 2020 e perché questo video beh perché è un gioco che sicuramente segnerà la storia dei videogiochi negli anni a venire soprattutto in termini grafici sarà probabilmente il nuovo metodo di paragone per quello che una volta era crisis dove scherzosamente si chiedeva agli amici al tuo nuovo pc cg era crisis e diciamo che questo gioco è in grado di mettere in ginocchio qualsiasi pc io ho una 2080 ho fatto questo investimento anche in vista di cyberpunk ma devo dire che ci sono alcuni momenti in cui a tutto a ultra in full hd ogni tanto magari qualche incertezza c'è non so come verrà questo video perché il gioco è pesantuccio chissà poi anche a registrarlo ho iniziato a parlare ora perché i caricamenti sono piuttosto lunghi volevo prima di tutto dire chi ha detto su questo canale non si vedono più giochi indie ormai non si vede più niente che sono balle e onestamente poi porto quello che voglio ma essendo il canale indie ogni tanto mi concedo anche qualche AAA giusto per parlarne anche solo in chiave molto diversa rispetto alla media perché io ho visto questo gioco portato da tanti youtuber ed è stato portato tante volte a scopo di intrattenimento quindi per un appassionato magari che non sono io però appassionato di simulazione è sicuramente un insulto vedere degli aerei portati contro i palazzi piuttosto che in ambienti dove non devono andare io amo il vfr che è il volo a vista richiede una quantità di ore comunque passate a guardare anche solo video tutorial di gente vera che ha guidato che guida che che illustra come funzionano gli aerei e non devo dirvi che mi sto divertendo molto a guardare queste persone che guidano e quindi la passione ce l'ho non vi spiegherò tutte le feature di fra i simulatori dato che l'avete già avuto modo di vedere ovunque vi dico solo che questi sono gli aeroporti disponibili in tutto il mondo con il fatto che adesso sono quasi le 8 quindi sta per diventare buio noi modificheremo l'ora sempre che riesca condizioni di volo ovviamente qua dobbiamo spostare l'orario perché ovviamente 20 di agosto lo dobbiamo fare ad un orario più centrale diciamo più di luce quindi lo faremo alle 9 di mattina e partiremo magari in una zona io vorrei fare anche un tributo a chi in questo momento vorrebbe tanto giocare a questo gioco ma non lo può fare perché attualmente è in ferie che è miacoli gameplay channel che saluto e spero veda questo video ho deciso quindi di fare un tributo a lui andando ad atterrare nel suo lago il lago di como allora io parto da questo luogo che è una pista a cui in cui io sono stato la via superficie kong per fare un simulatore virtuale di volo di ultraleggero qualche anno fa tra l'altro riusci anche ad atterrarci senza schiantarmi con stupore dell'istruttore e luogo in cui mi piacerebbe tornare per fare un giorno il battesimo di volo quindi insomma partendo lì e l'aereo che vorrei provare giusto per farla un pochino fuori dal coro è un aereo che io avrei messo tranquillamente nella versione deluxe del gioco io la versione base infatti è questo l'icon a5 perché se andate su youtube e cercate questo aereo è bellissimo sembra fatto da spacex magari poi l'ho fatto davvero non lo so però è veramente figo si possono bilanciare si possono attivare tutti i vari guasti io adesso non so possiamo che attivarli però insomma non possiamo attivarli poi gli possiamo dire di far verificare un guasto in un momento preciso oppure no possiamo armarlo o meno però no lo abilitiamo anche perché se noi decidessimo di partire a freddo quindi col motore spento e tutto se non facciamo le cose correttamente andiamo a rompere l'aereo quindi va bene in pratica noi partiamo così uso l'otas x che ho usato anche per per il giochi spaziali insomma che ho usato per il dangerous con una manetta e il joystick non sono una cima lo dico subito quindi se cercate magari qualche critica facile qua ci riuscirete perché non sono un esperto ma dato che ho appena il gioco e spinto all'entusiasmo rifaccio questo video ho intenzione comunque di informarmi e imparare sempre di più devo dire sono stato nelle zone dove abito io che sono zone abbastanza sperdute e la resa delle montagne è eccezionale uguale alla realtà uguale a quello che vedo io in auto quando invece ci si avvicina magari al cima delle montagne dove ci sono dei luoghi che conosco vengono e si vede generati dall'algoritmo quindi di si nota un po più di approssimazione però devo dire che la resa del sole le nuvole il tempo atmosferico la resa del vento è veramente fatta in modo eccezionale quindi ora andremo ad esplorare questo aereo vi farò vedere anche si parte da qua dove io sono stato come vi ho detto un luogo abbastanza particolare tra l'altro grafica ha alti e bassi devo dire anche lì dipende un po anche dalla velocità di connessione perché qua vedete che c'è un rallentamento ma onestamente questo video questi rallentamenti qui non ci sono nel momento in cui registra non registro in pratica ok quasi parte questo è un volo è un aereo anfibio quindi praticamente atterreremo direttamente sul lago di como faremo una cosa veramente molto rapida se la guardate è uguale io la prima volta che salgo su questo aereo ma ho visto dei video su youtube quindi qua potete vedere andando a zoomare potete vedere i flaps e tutte le varie cose quello che fanno che la gente che che lo guida realmente allora intanto potete anche col tasto and andare a a vedere l'aereo ora non capisco perché stia fumando magari ad accendere in realtà ci sarebbero altre cose da fare ma vediamo se riesco ad accenderlo una cosa interessante è che possiamo andare in alto ad aprire la checklist la checklist è la cosa che i piloti devono fare prima di partire e praticamente indica che cosa dobbiamo fare dopo l'ingresso in cabina io vi dico la verità sul cesna su un pari di cesna ho scaricato proprio il manuale dei piloti e seguivo quello oltre che guardare su youtube la gente che guidava allora tutti gli equipaggiamenti elettrici off c'è anche dove è tutto spento ok poi dobbiamo mettere il master su on quindi attiva e vedete che si accende tutto ok valvola del carburante va messa su on ed è su off quindi l'accendiamo perfetto ok a posto fatto questo avviamento del motore strobo on quindi dobbiamo andare qui attivare le luci poi mezzo pollice dobbiamo pagherlo in realtà io ho letto sul manuale sarebbe da mettere al 50 per cento però vabbè va bene fatto e poi abbiamo l'avviamento sulla tema ora rimetto la visuale con il pad così e proviamo ad accendere il motore accendiamo i magneti partito il manuale dice di vedere salire l'olio dopo dieci secondi la temperatura dell'olio se no è un problema infatti deve andare sul verde la pressione dell'olio ok la temperatura no la pressione dell'olio che deve salire subito entro dieci secondi se no spegnete subito possiamo fare anche il test delle varie segnalazioni e vedere che tutto funziona perché ci sono anche i guasti quindi spuntiamo tutte le voci spunto la voce spunto e spunto perfetto ora che cosa abbiamo funzionamento del motore manetta 2500 giri finché che allora dove sono indicazioni qua 2500 si più o meno adesso l'abbasso l'abbasso un pelo ok luci esterne come richiesto vabbè noi accendiamo tutte le luci leva della potenza rallenta al minimo dopo di che allora abbiamo tenuto tutto giusto perfetto quindi spuntiamo tutto che abbiamo fatto tutto poi ovviamente è più figo tenere tutto diciamo a parte ok abbiamo fatto tutto ora non ho la minima idea di come fare ad andare indietro quindi credo sia questa levetta qui a no ok no ok dobbiamo uscire dal parcheggio del dell'aeroporto quindi servirebbe che qualcuno ci portasse fuori vediamo se se riusciamo sbloccando i freni di parcheggio ok vediamo se accelerando usando un po il timone vediamo se no non ci non ci muoviamo perché no questi sono tasti disabilitati vedete che qua abbiamo l'atterraggio giù ok beh stiamo andando cioè io credo che vedete che qua sono off disattivati i parcheggi i freni di parcheggio quindi vediamo se riusciamo a muoverci se ci stiamo muovendo anche se molto piano dobbiamo fare attenzione a non rompere nulla perché stiamo andando in un prato possiamo atterrare dove vogliamo e quindi anche in un prato vedete che il gps è molto figo perché ci dà l'indicazione di dove andare scusate ma devo assolutamente frenare prima di cappottarmi ok frena con questo ok bravo ok adesso acceleriamo e andiamo una pista piccolina questa per quanto io ci sia stato me lo ricordo diversamente però ricordo che le versioni hanno pochi aeroporti costruiti normali insomma ok pronti ci leviamo in volo forse se non stalliamo prima ok è una maneggevolezza abbastanza strana devo ammettere perché 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 non scoda come il cesna però dovrei imparare un pochino intanto vedo se riesco a farvi vedere com'è la visuale esterna eccola qui guardate l'aereo è veramente figo veramente carino stiamo per arrivare a casa di mirko luogo di mirko insomma non è la casa di mirko però l'aereo è veramente molto molto figo vedo se riesco a fare una una giravolta con la visuale che bello sembra fatto da spacex torno dentro ok andiamo a vedere il lago qua dovrebbe esserci lecco e poi proveremo magari un atterraggio questo è un video assolutamente di di un'ignoranza pazzesca ma un po' diverso perché non faccio il caretino in giro come tanti hanno fatto oh mamma mia il timone è veramente veramente l'eco dovrebbe essere là in fondo se non non vedo male perché questo è il lago di calolzio credo poi qualcuno mi correggerà sono un po' le mie zone gli alberi sono assolutamente identici anche se non so quanto stasera la connessione mi stia supportando adesso con questo possiamo guardare giù chi conosce la zona potrà sicuramente riconoscere i monti della zona e di volo abbiamo fatto veramente poco però intanto stiamo tenendo d'occhio la temperatura dell'acqua la pressione dell'olio è un aereo per il divertimento infatti io veramente mi esalto tantissimo quando guardo i video di queste persone no ho detto una castroneria perché questo è il lago di calolzio su cui stiamo viaggiando ora infatti il lago di como è più avanti quindi a breve ci andremo intanto sto cercando di livellarmi magari usando anche il trim il trim anche qui ce ne sarebbe molto da dire sul trim che va a stabilizzare l'aereo infatti ci sono un sacco di aggiustamenti che col tempo imparerete a non fare più perché l'aereo gestirà in automatico tutte le cose in base all'assetto che gli impostate ecco l'allago di como sì questo è l'ecco per forza di cose vedete poi se notate qualcosa che conoscete se qualcuno è della zona e io sto comunque decidendo l'assetto in modo da poter volare tranquillo posso guardarmi anche intorno e vedere le varie montagne percepisco una pesantezza che non avevo mai percepito prima ma semplicemente perché appunto stiamo anche registrando quindi non so onestamente per come verrà il video ora il lago di como quel ramo del lago di como che volge al mezzogiorno ci stiamo andando è un aereo leggerissimo costa meno di 200.000 euro perché stiamo parlando di 189.000 come listino è un aereo da intrattenimento anche ci fate il VFR infatti lo vedete che non è a mille comandi ha anche una sorta di paracadute vedete qui che tirandolo vi butta fuori qua è un po' diverso da quello che ho visto ma in pratica qua sganciate e il tettuccio si apre ci sono dei video interessanti ripeto su youtube su questo aereo quindi io poi ignoro che cosa sia questo poi qua ci sono tutti i pannelli pannello touch quindi potete andare a settare il vostro percorso insomma e vale varie ora ne approfitto per farvi vedere un pochino il ponte ora andiamo sull'eco che dovrebbe essere questo presumo se riconoscete qualcosa qui sono tutti i dati presi dal satellite quindi insomma c'è il lungolago le barche questa zona qui la conosco attendo comunque i vostri figli il parchetto qui me lo ricordo qua c'ho anche mangiato qualche volta qui mi pare ci sono tipo un obelisco o qualcosa del genere comunque comunque anyway torniamo al centro e andiamo a provare l'atterraggio sul lago di como in onore a mirko il gioco non ha un sistema di danni a parte i guasti diciamo che nel momento in cui morite cioè vi schiantate il gioco finisce qua io non ho una grande cultura di questo aereo perché sto studiando il Cessna vorrei fare il giro d'Italia col Cessna con magari se vi interessa fare dei video con una spiegazione diciamo di quello che che sono i vari luoghi che andiamo a vedere però non so questo sembra più fantascienza che realismo e che io riesco a fare una cosa del genere però mi sto divertendo molto col Cessna con i mille pulsanti insomma da fare sono un babbano perché vedete che ho il carrello ma io non posso atterrare col carrello quindi lo tiriamo su ok eccolo lì che sale ok adesso siamo in assetto vedete che è scomparso in transit quindi vuol dire che il carrello è pronto dobbiamo atterrare quindi dobbiamo fare attenzione a non aggiungere una velocità troppo elevata atterrando vediamo se ce la facciamo non ho mai mai in tutti i fly simulator che ho giocato dal 2002 in poi l'X del 2002 i due che ho giocato non sono mai atterrato sull'acqua credo che si debba atterrare non so se sui quanti nodi 90 decollo lo so ci proviamo insomma andiamo pian piano diminuiamo la manetta io poi abito nelle zone su in alto oltre a quelle montagne ok siamo sui 90 stiamo per guardate l'altimetro non è comodissimo così però mi dà un po' l'idea adesso via il motore rallento un pelo rallento vedete che sto rallentando parecchio oh siamo forse continuiamo a prendere delle batoste ma dovremmo avercela fatta sì forse ce l'abbiamo fatta eh non ci sono penso dei freni qua quindi non ho neanche attivato i flap quindi ci stiamo proprio fermando figo 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 tremendamente figo questo aereo perché poi da qui si ridecolla guardate anche il riflesso sul vetro che spettacolo ce l'abbiamo fatta siamo atterrati in mezzo al lago di Como un tributo a Mirko che purtroppo potrà cominciare a giocare a fly simulator soltanto da intanto diamo un colpo di timone per girare soltanto da domenica e so che ci soffre molto comunque lo saluto ciao da casa tua dal tuo lago insomma è stato molto divertente anche non capire perché prima ho provato un pochino a farlo partire da avviato il motore si bruciava e non capivo il perché comunque sono riuscito a farlo ora vedete che siamo ancora col motore acceso generalmente almeno sui Cessna non si stacca il motore ma si toglie la benzina il carburante prima in modo da svuotare completamente e non lasciare carburante in combusto all'interno a quel punto poi le chiavi vengono girate su off e qua è il totale spegnimento del motore in questo caso poi si vanno a spegnere gli strumenti e abbiamo finito in caso al contrario poi si va si riapre questo si va a rigirare a riaccendere il master le varie luci e poi si va a riaccendere il motore anche se in realtà non ho avviato la manetta ma il motore è già già caldo quindi anche se la temperatura dell'olio non è proprio a un livello però il motore era già comunque abbastanza caldo perché abbiamo fatto qualche chilometro quindi dovremmo riuscire a ridecollare così che voi potete andare ovunque vedete un campo lì volete atterrarci volete guardare i panorami volete vedere ogni cosa di questo mondo insomma di che il nostro mondo insomma e ve lo potete godere allora Flight Simulator è un grandissimo titolo ovviamente è un triple A con i fiocchi l'ho portato sul canale spero di non aver fatto uno sgarbo anche perché chi si indigna sappia che ho tanti altri giochi indie ancora da portare spero di avervi fatto cosa gradita un saluto ancora a Mirko sperando di volare con lui un domani guardate il riflesso veramente questo è RTX dovrebbe essere proprio una tecnologia RTX con il riflesso ragazzi un abbraccio a tutti lì un po' meno bello insomma però vabbè ci sta sonzone abbastanza questo è il lago più glamour del mondo quindi non scherziamo ragazzi un saluto alla prossima e ciao 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 ciao